10 febbraio 1855, questa è la data fondante dello Stato italiano perché il Parlamento subalpino approvò la mozione che diede l'opportunità all'esercito piemontese condotto dai biellesi Alessandro e Alfonso Lamarmora di recarsi in Crimea e naturalmente a fianco delle truppe francesi, inglesi e turche a combattere contro la Russia. In quella data naturalmente il Parlamento stabilì quelli che erano le future alleanze che di lì a poco avrebbero portato alla Costituzione dello Stato italiano. Ma di chi fu l'idea? Di Cavour? Assolutamente no. L'idea fu di un esule romano, Luigi Carlo Farini, che poi diventò anche presidente del Consiglio per un breve periodo tra il 1862 e il 1863, che esule e quindi migrante da Roma, venne a Torino, ottenne la cittadinanza piemontese, divenne parlamentare e naturalmente nel corso della sua esistenza e nel corso soprattutto di una delle sue grandi passioni, sapete qual era la grande passione all'epoca di quelle persone che erano ricche, che comunque avevano censo e che potevano andare in giro a parlare fra di loro? La caccia, la caccia alle quaglie e allora la leggenda, o per meglio dire, la storia, narra che proprio durante una di queste cacce alla quaglie, nella zona di Saluggia con un suo amico, andando appunto a caccia del volatile, ma non trovandolo in quelle particolari situazioni, che cosa successe? Si mise a parlare di politica. Si mise a parlare di politica con il suo amico, leggendo i giornali e stabilendo che forse probabilmente la ricerca di un alleato contro l'Austria, in questo caso Francia e Inghilterra, avrebbe potuto portare l'Italia a una consacrazione come Stato unitario. Questa proposta fu naturalmente fatta al Parlamento, fu condivisa con Cavour e naturalmente che cosa successe? Che fu votata. Non fu un voto però molto unanime, anche all'epoca, soprattutto nel Parlamento, andava di voga una certa categoria. E sapete qual è questa categoria? I franchi tiratori, come dire, la storia non cambia assolutamente mai. Ci furono poi personaggi come Mazzini che furono contrari a questa escursus in terra russa per andare a combattere i russi a fianco di Francia e Inghilterra, ma il provvedimento passò il 10 febbraio del 1855 e così i pistapauta, come venivano chiamati i fanti piemontesi poterono prendere la nave da Genova, andare nella penisola di Crimea e combattere a fianco di francesi e inglesi. La soluzione? 1861, passando dalla seconda guerra di indipendenza, grazie all'aiuto proprio dei francesi, lo Stato italiano venne assolutamente costituito e così un esule, un migrante, aiutò Cavour a costituire lo Stato italiano. Grazie a tutti.